Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Vi voglio parlare di una parte fondamentale della vita del filmmaker freelance, una cosa che sembra noiosa ma non lo è, il marketing. Non è solo questione di girare video fantastici ma anche di far sapere al mondo che tu esisti e hai qualcosa da dire. Insomma vi darò tre consigli che personalmente ritengo importanti come promuovere i propri servizi e far crescere la vostra carriera. Sfruttate i social media a fondo. Siate attivi su piattaforme come Instagram, Twitter e LinkedIn. Condividete i vostri progetti dietro le quinte e raccontate la vostra storia. L'umanizzazione è la chiave. Create contenuti coinvolgenti che mostrino la vostra passione per il filmmaking. Se pubblicate un contenuto in cui siete voi a parlare, siate spontanei e meno artificiosi e non preoccupatevi se non siete perfetti. Nessuno lo è, nemmeno io, nemmeno io. Con il tempo vi sugliarete. Costruite un portfolio online. Un portfolio online è la vostra vetrina virtuale. Create un sito web pulito e professionale che mostri i vostri migliori lavori. Includete descrizioni dettagliate di ogni progetto, evidenziando le sfide affrontate e le soluzioni creative adottate. Il sito web non deve essere solo bello, ma ottimizzato per i motori di ricerca, in modo da essere visibile a chi cerca una figura come la vostra e nel posto in cui lavorate. Crea contenuti di valore. Non limitatevi a promuovere i vostri progetti, ma offrite anche contenuti di valore. Potete creare tutorial su tecniche di ripresa, recensioni di attrezzature o anche vlog dietro le quinte. La chiave però è essere autentici, ripeto, e condividere il vostro know-how. Come avete capito, io ho aperto questo canale con lo scopo non solo di parlare di filmmaking, ma di comunicazione, psicologia, di quello che è collegato ai miei interessi, al mio lavoro. È un modo autentico per farmi conoscere attraverso anche tematiche profonde e non solo attraverso il mostrare come si fa qualcosa. Ricordate, il marketing non deve essere noioso o forzato, deve riflettere la vostra passione e autenticità come filmmaker. Vedete in pratica queste strategie e vedrete crescere la vostra presenza online e la vostra carriera da freelance. Se avete altri suggerimenti video, volete condividere le vostre esperienze di marketing, lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale, al mio canale, per rimanere aggiornati per altri consigli per la vita da filmmaker freelance. A presto!